Gentili telespettatori bentornati al nostro consueto approfondimento sportivo di inizio settimana Sportivamente Flash. Lo apriamo con il servizio realizzato dalla redazione di Campobasso sulla gara casalinga dei Lupi, Campobasso football club Real Fossombrone 2-1 vinto appunto dalla squadra molisana. Una settimana intensa per il Campobasso che ha salutato l'ex capitano e numero 10 Corvino già casatosi al Casarano e che arriva all'Avicor Stadium con un solo risultato in mente, la vittoria. Una squadra cantiere in continua evoluzione, si attendono altre cessioni, soprattutto i nuovi arrivi tra qualche settimana. Partita difficile contro il Fossombrone, con gli uomini contati e con un Rasi in più, la vera nuova carta dell'allenatore rosso-blu. La mano di Pergolizzi si vede, primo tempo gestito bene dei Lupi, ma il vantaggio arriva solo nel secondo tempo con la rete su calcio d'angolo di Nonni. Il raddoppio è uno splendido gol di Rasi, migliore in campo, difende, corre, tira, pallonetto, 2-0. Poi il rigore dubbio per gli ospiti sul fallo di Rasi, sul dischetto Conti, esposito tocca, ma è gol, 2-1 ma non c'è più tempo. Il Campobasso vince una delicatissima partita, adesso il recupero con il vasto Girardi, che potrebbe portare i Lupi ad una sola distanza dalla San Benedettese. A fine gara le interviste dei protagonisti del match. Sono contento per la prestazione della squadra, perché comunque quello che avevo chiesto era una partita molto difficile, perché loro è una squadra ben organizzata, forse credo che sia la difesa meno battuta, hanno fatto un risultato spesso fuori casa, quindi era molto difficile questa partita. Dovevo avere pazienza, abbiamo avuto un gran possesso pallo nel primo tempo, forse se siamo un po' più cattivi nel rifinire in qualche azione potevamo andare in vantaggio, poi l'abbiamo sblocato e diciamo che non abbiamo più sofferto. Ci vuole del tempo, ci vuole del tempo sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto fisico, perché stiamo crescendo e bisogna lavorare, però il nostro obiettivo è quello di dare continuità a quello che facciamo, dare continuità al modo di pensare, di lavorare, lavorare e soprattutto uno verso l'altro mettersi sempre a disposizione. Soprattutto l'abbiamo visto in queste settimane, il calcio è fatto di giocatori che vengono e che vanno. Quando arriva questo periodo non è mai facile per una squadra, si creano tante dinamiche e noi siamo stati molto bravi a mantenere il gruppo molto saldo. Arriveranno giocatori, altri magari andanno via, perché purtroppo il calcio fa parte anche di questo. Penso che da quando si assisterà di più la squadra cominceremo a trovare le trame, cominceremo a avere uno schema più fisso, ma per il fatto che anche io che ho giocato di meno penso che tutti siamo fondamentali, però posso dirti che noi ci alleniamo bene dal primo all'ultimo, siamo un gruppo molto vivo, molto valido e credo che con il tempo sicuramente troveremo le trame giuste che voi magari non vedete, però posso dirvi che in allenamento, anche in alcuni frangenti, magari da fuori poi in un'altra partita, noi siamo sicuri di trovarle. Poi a volte penso che abbiamo fatto parlare il campo piuttosto che altro perché siamo lì e questo a volte conta più di tutto. Bene, partiamo con le schermate. Pregherei la regia di partire con la Serie D, Girone F, giornata numero 12. Queste le gare disputate, Atletico Ascoli, Alma Juventus, Fano 0-0, calcio Termoli, United, Riccione 0-1, Campobasso, Fossombrone 2-1, Chiedi, San Benedettese 2-2, Football Club Matese, Pasto Girardi 2-2, L'Aquila, Vezzano, calcio 1-0, Real, Monte Rotondo, Notaresco 1-0, Roma City Football Club, tipo di calcio 4-1, Vico Senigalli a sola, calcio 1-1. La classifica del campionato nazionale di Serie D, Girone F, San Benedettese 26, Chiedi 23, Campobasso 22, Vezzano, calcio 21, L'Aquila 21, Roma City Football Club 20, Vico Senigalli a 19, Fossombrone 18, Notaresco 17, United, Riccione 16, Sora Calcio, Real, Monte Rotondo 13, Atletico Ascoli 12, Alma Juventus, Fano 12, Vasto Girardi, Calcio e Football Club Matese 11, Tivoli Calcio 9, Calcio Termoli, chiude la classifica a 8 punti. Il campionato regionale di eccellenza a Molisano, giornata numero 11, Aura d'Alto Casertano, Limpia Agnionese 2-1, Calcio Virtus Gioiese, Sesto Campano Calcio 2-2, Campomarino, Città di Senna, Salleucio 2-3, Atletico San Pietro in Valle, Ripoli Mosani 0-2, Real Guglionesi, Triternina 3-1, Venafro, difesa Grande Termoli 2-0, Polisportiva Fortore Boiano 1-1, Turis, Castel di San, Crocef, 1953 0-0. La classifica guida L'Aura d'Alto Casertano a 33, Città di Sernia, Salleucio a 29, Sesto Campano Calcio 18, Venafro, Ripoli Mosani 17, Real Guglionesi e Polisportiva Fortore 16, Turis 14, Calcio Virtus Gioiese 12, Olimpia Agnionese 11, Atletico San Pietro in Valle 10, Campomarino 9, Criternina 8, difesa Grande Termoli 7, Boiano 6. Partiamo, passiamo, scusate, alla promozione molisana, giornata numero 11, Aesernia Fraterna, Maronea, Morcone Calcio 3-0, Fornum Baranello 0-1, Spinete Altirasanim 5-0, Bois Varano, Real Prata 5-0, Polisportiva Calena, Atletico Torre Maggiore 1-2, Trivento, Rocca Ravindola 1-0, Calcio Montenero, Locomotive Riccia 2-0, Chaminade, Polisportiva M, Juvenes Terminata 0-0. La classifica, guida il Baranello a 27, Bois Varano e Calcio Montenero 25, Esernia Fraterna 24, Locomotive Riccia 23, Atletico Torre Maggiore 20, Trivento 18, Spinete 16, Rocca Ravindola 15, Fornum 13 punti, Polisportiva M, Juvenes 12, Chaminade, Real Prata 10, Morcone Calcio 8, Polisportiva Calena 5, Altirasanim 0 punti. Chiudiamo con la prima categoria, Girone A, non aggiornata di campionato, Gioventù Macchia Codenese, Campobasso Calcio 2-4, Sant'Angelo Limosano, Odex Pietramelara 4-1, San Giovanni Gaudo alla Fidelis 0-2, Voltune a Calcio, Pozzilli 1-2, Domenico Resisto, Tammaro 3-2, Ruffe Presenzano, Atletico Mignano 2-2, Mirabello Calcio, Carpinone Calcio 2-2, Riposato, Lalife. La classifica, guida Lalife a 24 punti, con la Domenico Resisto a 24, segue Sant'Angelo Limosano e Ruffe Presenzano a 22, Pozzilli 1967 19 punti, Carpinone Calcio alla Fidelis 13, Atletico Mignano 11, Audax Pietramelara 10 punti, Mirabello Calcio 10, Campobasso Calcio 7, San Giovanni Ingaldo, Volturnia Calcio, RL, Gioventù Macchia Codenese 3 punti, Tammaro 0 punti. Vi ringraziamo per averci seguito in questo approfondimento sportivo di inizio settimana. Come ti consiglio vediamo appuntamento a venerdì per la puntata numero 6 di Sportivamente. Un saluto a tutti da Michele Visco. . . . Grazie a tutti.